Musica E ritorniamo, ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo annunciato, parliamo di un grande pittore olandese anche questa volta, Hieronymus Bosch, e in collegamento abbiamo il pittore Sergio Favotto, che appunto ci racconta, ormai da prassi da molto tempo, storia, vita, insomma, di questi grandi, grandi pittori. Allora, Sergio, abbiamo un pittore particolare oggi, giusto? Eh sì, molto, molto speciale. Ah, ecco, ecco. Allora, chi è Bosch? Il tango, Geroen Antoni Zong Van Haken, detto Ben Bosch. Sì. Cioè, sarebbe in italiano, Gerolamo, figlio di Antonio Van Haken, di origine tedesca. Sì. Però, nato nel Brabante, cioè in una zona del nord Europa, che ancora non distingueva la parte ricca di Bruges, Anversa, eccetera, oggi Belgio, dall'Olanda, che allora era un paese molto depresso, in freda ad alluvioni mostruose, quindi una zona di contadini poverissimi. E, ovviamente, pensate che poco prima della sua nascita, 1450, c'era stata una notte, cosiddetta, notte di Santa Elisabetta, nel novembre del 1421, un alluvione aveva spattato via 100.000 abitanti. Vuol dire un terzo della popolazione lì allora. Quindi, una zona poverissima. Però, ovviamente, è cominciata allora l'avventura degli olandesi, la costruzione delle prime dighe, e quindi, ovviamente, un secolo dopo, sarebbe diventata forse una delle zone più ricche dell'Europa, in poco più di cent'anni. Quindi, in questa zona, dove c'era appunto questa oscura previsione quasi della distruzione totale, l'evocazione del diluvio, che era presente in mezzo alla popolazione, nasce questo ragazzo di una famiglia che faceva una famiglia artigiana, dove si costruivano arredi sacri, dorature di statue, arredi di vario genere, nell'elaborazione degli argenti, soprattutto per le chiese o anche per i pochi ricchi che esistevano in zona. Quindi, già in questo si vede un lavoro minuto, fatto con lenti, fatto con strumenti tipici proprio degli orafi. E questo è molto importante, perché l'uso delle lenti gli avrebbe permesso l'esecuzione delle sue mirabolanti pitture, in cui migliaia di persone si affollano in uno spazio ridottissimo. Il cosiddetto microcosmo olandese, tipico della pittura olandese. Il ragazzo entra, dobbiamo capire la situazione. Quindi, in questa zona che viveva nel perenne pericolo della morte, si diffonde una saggezza popolare abbastanza scaramantica, che viene anche riportata a noi da Erasmo da Rotterdam con i suoi adagia, cioè i proversi tipici della saggezza popolare, l'elogio minzanie, cioè l'elogio della follia, la leggenda aurea di Jacopo da Varagine che raccontava il martirio di migliaia di cristiani che erano morti sotto le torture per difendere la fede, la festa dell'asino, la festa dei polli, cioè una tradizione popolare che era basata quasi sulla, come si può dire, l'appesa del giudizio di Dio. Ecco, quindi i cosiddetti millenaristi, no? Sì. In questo il misticismo e il fanatismo religioso erano tali che ovviamente aveva permesso la fondazione di molte associazioni, addirittura segrete, oppure di, come si dice, di gruppi di religiosi che... Lui le pretende era iscritto appunto a una di queste, di queste congreghe, chiamiamola così. E la cosa strana è questa, di lui, della sua famiglia non sappiamo nulla. La sua è stata una vita così piatta, ma così piatta, ma così normale, che nulla di eccezionale è stato annotato nella sua vita. Ma allora, da dove viene il miracolo di questo mondo così strano, così fantastico, così, diremmo noi oggi, surrealista? Da dove viene? Appunto dalle leggende contadine, dove questi personaggi che sono molto contrari... Lui descrive il peccato, descrive il male. Eccolo qua. Quindi, tra l'altro, dobbiamo tenere presente che lui arriva a dipingere quando avviene più o meno la scoperta del nuovo mondo, alla fine del secolo, 1492, arrivano questi racconti fantastici in cui il mondo si allarga a dismisura e diventa enormemente grande. E nello stesso diventa piccolo perché si diffonde la stampa. Quindi circola la cultura. Quindi pensate a questa contraddizione, no? Quindi fantasie cosmogoniche, animali strani. I nuovi viaggiatori descrivono un mondo in cui ci sono piante nuove, prodotti nuove, le patate, i fagioli. Le patate, sì. C'è tutto che arriva, il mai, che arrivano. Il maestro dell'America, sì, sì. Quindi la fantasia popolare inventa animali nuovi, piante nuove, inesistenti ovviamente. Ma dal racconto dei viaggiatori diventa una specie di antologia di creature impossibili, che animeranno i quadri di Boss. Ecco, la sua prima opera che lo rese noto è la leggenda, il tritico del carro di Fiero. Questo paese agricolo. Immaginate un tritico nel quale a sinistra appare la caduta degli angeli di ribello in alto, piccoli come moscerini, che crollano giù dal cielo sotto forma di ossa. La creazione di Eva in un mondo incantato, con una costruzione di rocce fantastiche, mai viste. Al centro la tentazione di Eva e in basso, dietro una specie di separè, fatto di rocce incredibili, che producono fiori e frutti esotici, un angelo caccia Adamo ed Eva. Questo è il pannello di sinistra. Al centro, dovete immaginare un quadro, la parte sopra è una zona celeste. Gesù dall'alto delle nuvole, su un paesaggio lontanissimo azzurro di colline di montagna e di mare, domina un immenso carro di fieno, sul quale una coppia di uomini e donne sta ascoltando una musica suonata da un demonio tromba. Con un angelo che tenta di salvare, ma dentro questo c'è spuglio che sta sopra il carro di fieno, ci sono una coppia di contadini che si baciano, cioè da celebrazioni della lucella. E sul carro, gente che tenta di arrampicarsi con le scale, di arraffare con i raffi il fieno. Infatti, infatti, il tema di proverbio era ti arraffa, arraffa. Quindi questo carro della cuccagna, perché l'immensità del fieno in una zona panneudosa era una ricchezza incredibile per gli animali domestici. Ma dietro c'è un corteo straordinario di papi, di re, di imperatori, che si avvicinano per impadronirsi del carro. Tutto attorno a una folla che si accalca, che tenta di arraffare il più possibile. E davanti, davanti un corteo trascinato con personaggi equivoci. Animali che sono né animali né uomini, alla testa del corteo la testa di un condannato. In primo piano un assassino. E giù, e giù, i peccati delle suore, dei monaci, che arraffano, approfittano del momento della povertà dei contadini con la loro predicazione. Ci stiamo avvicinando a Lutera. A Lutera, esatto. Ci stiamo avvicinando, non c'è ancora. Ma lo scandalo dell'indulgenza era già noto. Era già noto. Sì, sì, sì. Pannello di venta. Sì. E quindi la punizione con la legge del trapasso. Uno sfondo infernale di torri che bruciano. Maesaggi, torture, eccetera. Tutto il mondo di Bosch si sviluppa in tutta la sua infernale invenzione, capacità di invenzione. E questo non fa altro che preludere a quadri che sembrano estremamente più gioiosi. Per esempio, appunto, il tritico delle frizie, che verrà poco dopo. E quindi, questo modo di creare dei tritici era forse per proteggere anche le pitture. Cioè, si trattava di pannelli centrali sul quale si chiudevano delle ante. Una volta aperti, questi libri illustrati diventavano l'apertura di un mondo meraviglioso. Eh, per esempio, dimmi, dimmi. Ma la sua era in opposizione a quello che era il mondo religioso tradizionale o no? Ma no, era solo la constatazione di quello che è avvenuto. Ma lui dove si colloca quel prototipo? Lui no, secondo, lui non faceva altro che tradurre i sogni, gli incubi di un popolo che viveva in una miseria spaventosa, soffocato dai potenti e soffocato dalla religione. Perché era una religione ossessiva. Ossessiva è quella che basava tutto quanto sul terrore dell'inferno, basava tutte le vicende umane. Dobbiamo tenere presente questa situazione. Quelli che sono molto vecchi, e io appartengo alla schiera dei vecchi, sanno che in tono minore questa atmosfera non se n'è andata dalle popolazioni rurali fino al 1950-1960. Non dobbiamo dimenticarlo. E in certi paesi del sud dura ancora, con le tradizioni, con le processioni, con le passioni di Cristo, di Maria. Cioè, tutto un mondo abbastanza dominato più dalla superstizione, che dalla religione. E dalla paura. E dal terrore della postura, ovviamente. Sì, sì, sì. Quindi, tenete presente questo. Fatto questo, dobbiamo tenere presente che cosa stava succedendo. C'era appunto questo misticismo, questa tensione spirituale superstiziosa, che formava delle croce mentali inespetabili. E lui riusciva a renderla questa cosa. In immagini, attingendo appunto al bestiario, che ancora nei tempi del Medioevo arrivavano attraverso illustrazioni da tutto il mondo allora conosciuto. Ecco, non dimenticate che intorno al 1400 c'erano Jan Hus, filosofo, e soprattutto Gerola Nonsaola Nerole, che avevano predicato la fine del mondo perché il peccato sommergeva le coscienze. Sì, sì, sì. Ecco, quindi i cosiddetti millenaristi. Guardate che Bosch è morto nel 1516, quattro o cinque anni prima del scandalo di Lutero. Non dobbiamo dimenticare questa cosa. Erano quasi contemporanei, giusto? Eh sì, poco dopo. Poco dopo, sì. Lutero è nato che lui era ormai vecchiotto. Sì, sì, sì. Ecco, quindi ecco un'altra immagine che noi dobbiamo ottenere, che forse è il suo quadro più interessante dal punto di vista psichiatrico, diremmo noi oggi. La nave dei folli. Eh, la nave dei folli, esatto. Ecco, si basava su un libro del Quattrocento di ispirazione proprio locale, si chiamava Das Narrenschiff, la nave dei folli, e raccontava quello che accadeva, cioè il patto allora, non era una persona da escludere dalla società, era una specie di profeta, di messaggero di Dio, perché dicendo cose fantastiche e folli, era come se fosse ispirato da Dio, quindi veniva tenuto in considerazione il punto che ogni anno c'era una festa e c'era una nave azzurra che portava questi massimi in giro per i porti, che diventava una specie di spettacolo viaggiante, ma anche una specie di luogo e contatto su cui meditare. Queste quei navi dei folli, che viene descritta in 102 capitoli in questo libro famoso, appunto si chiama Narrenschiff, e che si imbarcano questi folli, veleggiavano per il mare e andavano a Narragoning, cioè la terra dei matti, per arrivare poi, vedete che la pronuncio bene, si chiamava Sharlathorland, cioè la terra della cuccagna, cioè il luogo dove i matti potevano attingere gratuitamente ai doni del cielo. E infine, come poteva finire, in un grande naufragio. Qui, questo quadro che racconta, in una piccola unica tavola, viene raccontata questa barca, che è più una sinossa, che veleggia in mare. Ma l'albero, maestro, non è un albero, è una pianta vera, sopra la quale si nasconde Dio. E qui, ovviamente, a metà dell'albero è legato un pollo arrosto, dove si inerpicano dei matti ad attingere la fetta di carne. Il conduttore è un suonatore di zampogna goppo. E ovviamente dentro, suore, prete, eccetera, si accalcano, si accoppiano, mangiano, suonano, ma tutto in una follia collettiva permessa. Provate a immaginare questo disastro umano che diventa anche il sogno dei poveri di allora. Perché poter mangiare attingendo ai doni del cielo era certamente molto più facile che non trave il cibo della terra, che era così, che era così, madrigna, in qualche modo. Ecco, e infine, devo parlare, non poi infine, non altro che infine, le opere di Bosch, note e sicure, sono una settantina, ma tutte di altissima qualità. Tutte di altissima qualità. Si è, per esempio, e il più famoso di tutte, è certamente l'albero, il giardino delle delizie, che si trova al Prado. Molte opere in Spagna aveva il suo ammiratore e il re. Erano, in quel momento, governati dal potere spagnolo. Sì, sì. E quindi il giardino delle delizie racconta, in un modo incredibile, quello che poteva essere il sogno dell'umanità. Dalla creazione, pannello sinistro, dovete immaginare un luogo fantastico, dove delle, non sono neanche escrescente, delle costruzioni che sembrano fatte con un pongo, un pongo rosa, su fondi azzurrini, ma fantastico, con torri, frutti e fiori, che diventano pietra, ma la pietra diventa frutto, ma il frutto diventa fiore. E da questo emergono omini incredibili, piccoli nudi, piccoli angioletti, piccoli animaletti. E in basso viene la creazione di Adamo ed Eva, che però, con la loro creazione, nasce anche il peccato. E infatti il terreno attorno alla creazione di Adamo ed Eva è invaso da una schiera di animaletti schifosi, rani, topi, rospi, che indicano il male, che si tuffano in una pozzanera. Cioè lui vede già il momento della creazione, che è il momento più alto del creato, è il momento anche in cui nasce il peccato e la perdizione. Quello che sarà poi la teoria di Calvino, quando arriverà, 50 anni dopo. Ma appunto arriva dopo. Arriva dopo, però attinge a questo senso del male che domina il mondo. Del peccato. Del peccato che domina il mondo. Esatto. Perché dovete tenere presente come viveva questa povera gente. Viveva in un ambiente in cui c'era la soprafazione e la regola. La gente più ricca, la poca gente ricca, era talmente spacciata da mostrare pubblicamente il proprio lusso, la propria vita folle, eccetera, di fronte a gente che nulla aveva e nulla riusciva a trarre dal terreno. C'era l'umiliazione. L'umiliazione della poverità. Ecco. E questo sembrava un castigo di Dio immanente. Quindi questa umanità, ecco, verrà poi un pannello in cui parlerò il cosiddetto inferno musicale. Devo parlare del pannello centrale del tritico delle delizie. È forse il punto più alto dell'immaginazione umana. Credo che nessuno sia mai riuscito a, in qualche modo, a illustrare meglio il sogno dell'eterna giovinezza. C'è una zona di colline, di mari, di piccoli laghi, dove sorgono queste costruzioni fantascientifiche che sono fatte di carne, ma sono fatte anche di pietra, sono fatte di frutta, sono fatte di consistenze gelatinose, sono fatte di gioielli che diventano rocce, rocce che diventano gioielli, dalla quale emergono decine di piccoli nudi di uomini e donne che si accalcano attorno a una fonte centrale da cui sgorga l'acqua che li renderà perpetuamente giovani, una giostra di centinaia di cavalieri attorno alla pozza della giovinezza, con animali strani, con giraffe dal corpo di pesce, pesci che hanno forma in parte di uccelli, parte di insetti, stormi di uccelli che diventano uomini, che diventano persone, bolle, fiori che diventano fantasmi di vetro, nelle quali ci sono coppie che si amano, è una cosa che non si può descrivere, deve essere visto. Cari signori che ascoltate, voi fate un click sul vostro computer, dovete, fatelo dopo però, perché altrimenti adesso non potete seguire più di tanto, e cercate Hieronymus Bosch, voi vi raccorderete altro che nel paese degli anelli, altro che nel regno di spade, altro che, cioè, veramente una cosa incredibile, di 600 anni fa. Ecco, questo è uno degli altri, ovviamente, il pannello di destra è appunto il pannello dell'inferno, che è l'inferno, l'inferno musicale. Perché? Perché tutto avviene in quanto l'umanità è sorda alla legge divina, e gli uomini vengono torturati con strumenti musicali, arte, arpe, violini, tamburi, diventano strumenti di tortura per una umanità sorda alle legge divina. Ovviamente è una cosa indescribile, indescribile, tanto per dirvi, provate a immaginare un pece uccello seduto su un trono che sta cacando persone che ha già divorato, persone che lui sta divorando dalla quale escono schiere di rondini dall'ano e che poi ovviamente precipita in una pozza, che è la pozza del peccato profondo, in cui gli ingordi vomitano e gli avari cacano monete d'oro. cioè io vi sto descrivendo il minimo, cioè io sto dicendo un tassello minuscolo ma questo derivava dal peccato sempre il peccato nel mare e questo lo si vede anche quando dopo un viaggio in Italia lui incontra quasi sicuramente Leonardo tra Venezia e Milano perché le caricature di Leonardo diventano sue se ne appropria per esempio nella salita al Calvario un altro quadro terrificante in cui le uniche gli unici volti che hanno una forma umana proprio normale sono al centro del quadro il volto di Cristo paziente in altro a destra il buon ladrone che viene affrontato da un monaco demoniaco e in basso a sinistra il volto angelico della Veronica tutto il resto è un ghignare di uomini mostruosi il peggior di tutti in basso a destra è il volto deformato dall'ira e dalla cattiveria del cattivo ladrone questo quadro in piccolo racconta alla versione la versione olandese delle caricature di Leonardo e questo è un momento molto importante perché in Italia farà gli unici quadri che sono di sapore quasi italiano il martirio di Santa Giuliana il martirio di Santa Giuliana il trittico anche il trittico Santa Giuliana è famosissimo perché si trova nel palazzo ducale di Venezia e anche abbiamo opere alle gallerie dell'accademia ha subito moltissimi danni nel suo trasferimento a Vienna nell'ottocento ed è ritornato molto danno comunque ancora oggi un'opera assolutamente e però anche qui appaiono dei personaggi angoscianti però ha un clima molto più sereno molto più italiano molto più italiano quindi risente anche del clima io devo citare un altro quadro cosiddetto italiano di San Giovanni Battista in meditazione c'è questo santo vestito di rosso che ha covacciato ha covacciato di fianco a una pietra e qui però di fianco a lui sta crescendo una superfetazione cioè con una parola bruttissima una specie di pianta carnivora dalla quale escono rospi escono insetti e ovviamente produce un fiore zucca e poi produce spine ma anche delle piattaforme dalla quale si gettano degli insetti è un paesaggio incantevole cioè dovete tenere presente che lui purifica il proprio linguaggio ma non riesce a dimenticare il mondo dei suoi mostri ecco ma non è che fosse troppo pessimista troppo triste anche perché le sue opere un po' spaventano se vogliamo sì ma spaventano è come dire la dolce morte non so come dire i suoi colori sono di una pastellatura incredibile cioè tu vieni preso dall'accostamento di questi toni pastellati ti racconta il male con toni da salotto ecco il male con toni da salotto con un linguaggio poetico dolcissimo è come se invece di essere è una specie di condanna al dolore sedato posso dirlo? ecco quindi con toni con toni dolci ti fa vedere il male dell'uomo sì ma anche nelle cose peggiori però è un impegno morale ma lui aspirava cosa? a correggere l'uomo nei suoi peccati? qual era l'obiettivo? lui aveva un grande suggeritore Erasmo da Rotterdam esatto eccolo qua Erasmo da Rotterdam è stato il primo grande come si può dire dobbiamo dire la parola europeo che è riuscito a mettere insieme la cultura del nord e la cultura del sud in una visione sublime cioè l'uomo europeo è una melange è all'inglese una melting pot un minestrone di culture che è nata dall'incontro dei barbari con la cultura con la cultura latina e questo minestrone aveva prodotto una cultura nuova che noi oggi chiamiamo cultura europea lui ha avuto questa visione che le culture chiuse sono culture di microbi e lo si vede nei quadri di Bosch che la cultura locale era una cultura destinata alla estinzione e sarà proprio Bosch a dichiararlo con le sue opere cosiddette italiane che l'incontro del mondo del nord più malefico più oscuro e ovviamente tenete pensare i sei mesi di buio dei paesi nordici anche dal punto di vista climatico quindi anche la depressione la solitudine l'isolamento all'incontro solare con il sud dalle luci di Venezia e queste due culture daranno appunto una cultura che oggi è unificata noi andiamo oggi in Olanda e troviamo i ristoranti italiani noi andiamo in qualsiasi paese del mondo incontriamo la luce di Venezia la luce di Roma ma anche il contrario voi trovate nel nord Italia o in tutto il mondo il senso luterano della della borghesia moderna cioè del Dio ti aiuta se tu ti aiuti quindi il concetto di evoluzione anche delle professionali che è tipico della cultura luterana ecco di Lutero che credeva ma abbiamo dimenticato una cosa molto importante all'epoca non c'era ancora la scienza ma c'era l'alchimia che cos'era? e lui si appoggia all'alchimia certo l'alchimia era l'appoggio che poteva giustificare questa follia di un mondo che evolveva quindi il principio creatore lo spirito universale che è fuso nella materia nella materia che può diventare altro il mercurio che può diventare oro il nero che può diventare bianco il mercurio il piombo che può diventare oro quindi quello è il segreto della pietra filosofale per ottenere l'illuminazione dello spirito quindi la grande opera citata moltissimo nei suoi quadri come l'uomo albero dentro il quale avviene l'elaborazione alchemica e che lui stesso si trova nell'inferno musicale tutto il male se il piombo può diventare oro anche il male può diventare bene quella trasformazione del male in bene ecco che lo si vede soprattutto in una giudizio universale che lui lo ha reso anche celebre che si trova ovviamente adesso avviene all'accademia delle arti figurative in cui la parte alta in cui Gesù seduto su un arcobaleno circondato dai pochissimi beati vede e prospetta la salvezza a un mondo di dannati che si scannano tra di loro in base prevale ancora il male ma c'è lo spiraglio di luce verso il bene ma lui crede nell'uomo o un aiuto divino alla fine crede nell'aiuto divino perché l'uomo è una melange è nato dal peccato è nato da una dannazione se il primo uomo ha distrutto il progetto di Dio tutti gli uomini rientrano in questo progetto in questo progetto e crede nel divino certo bella bella questa narrazione interessantissima interessantissima siamo qua tutti a orecchietese ovviamente ad ascoltarti allora quest'ultima cosa devo dirla è illuminata dall'un quadro degli assolpini di sua vita e che è il volo o la caduta di Sant'Antonio per dire che anche i santi hanno i loro problemi questo santo che viene trascinato da creature immonde verso l'alto e che precipita forse perché non ha creduto abbastanza in Dio e che viene aiutato da poveri umani a ritornare nella sua grotta quindi siamo alla vigilia infatti sotto il ponte dove lui viene portato a casa ci sono degli ecclesiastici che vendono le indulgenze ah eccole siamo siamo alla vigilia della riforma di Lutero di Lutero certo e da qui si apre un altro capitolo bene difficile parlare di quest'uomo perché rendere con parole queste cose è quasi impossibile è quasi impossibile bene allora grazie Sergio una reazione eccezionale anche oggi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo ricordo queste interviste le trovate in canale youtube voce storia e cultura ascoltiamole riascoltiamole perché magari certi passaggi li comprendiamo meglio grazie Sergio grazie mille alla prossima grazie Sergio grazie a tutti grazie a tutti